Siamo un po' tutti come Giona, perché anche noi come Giona pensiamo di conoscere Dio, ma in realtà abbiamo un'immagine di Dio diversa da quella che la parola ci rivela. Noi crediamo che Dio debba mettere i conti in pari, debba fare giustizia, debba sistemare le cose come noi pensiamo sia opportuno. In realtà Dio ragiona in modo diverso. Nel racconto di Giona notiamo come lui ha misericordia del popolo straniero di Nive, secondo il peccatore. Lui ha misericordia di ogni uomo, perché ogni uomo ha il diritto di essere salvato. Perché? Perché lui è il padre nostro, come il Vangelo ci riveva. È il padre di tutti, è quel padre che si prende cura di ciascun suo figlio. Anche la persona può aver compiuto il più grande peccato, ma Dio padre sa che ha bisogno del suo amore, perché solo la paternità di Dio converte e cambia il cuore di ogni suo figlio. Buona missio.